e si deve tradurre, a mio avviso, nel fatto che bisogna creare le condizioni per fare quello che dici. No, perché hai usato molte volte il termine dobbiamo, quindi vuol dire che non l'abbiamo fatta ancora abbastanza e quindi bisogna creare le condizioni perché quel dobbiamo diventi una realtà. Adesso direi di dare la parola a Oscar Mina, sempre della sezione di Saravalle, e che ringrazio per la sua disponibilità. Presidente, amici delegati, gentili ospiti, amici e amiche. Dopo aver ascoltato la relazione del nostro segretario ieri sera, che mi sento ovviamente di condividere in pieno, a mia volta vorrei fare ulteriori riflessioni, in quanto credo che questo ventunesimo congresso del partito sia uno degli appuntamenti nel programma politico più atteso e significativo, soprattutto dopo le recenti elezioni politiche dell'8 dicembre scorso, che ha visto il nostro partito finalmente protagonista e vincitore di questa tornata elettorale, e di seguito ottenere il mandato, soprattutto per formare una nuova maggioranza ed un governo. Dicevo, questo congresso rappresenta sicuramente un importante appuntamento che celebriamo in un momento particolare, molto difficile per la nostra Repubblica, anch'essa colpita da questa pandemia tuttora in corso, affrontata, credo, da tutti, in maniera seria, responsabile, con cognizione di causa, nelle decisioni assunte, con i vari decreti, tra l'altro, emessi dal governo anti-Covid. Quindi questa assisi in cui dovremo sicuramente prendere in esame anche i rapporti di maggioranza, esaminare tutti gli aspetti programmatici, stabilire e rivedere quali siano le priorità per contenere questa situazione di gravissimo disagio e per trovare le giuste soluzioni per il rilancio della nostra economia. Il titolo di questo congresso, Sostenere la persona per il futuro del Paese, a mio avviso racchiude in sé un'esigenza, ovvero ribadisce come le scelte, le decisioni che dovranno essere improntate, a tutti gli effetti, nel tener conto che l'interesse comune, il bene comune, ruota esclusivamente attorno alla persona. La persona al centro, quindi, di ogni decisione, nel rispetto della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà, ovvero porre in primo piano i principi della democrazia e i principi dello Stato di diritto, credo sia un dovere per il nostro partito. La persona al centro, quindi, della nostra azione politica significa creare anche delle condizioni di sicurezza, garantendo anche nel contempo valori etici e morali elevati. Uno di questi valori, a mio avviso, è anche il pluralismo conseguente della scelta di porre la persona al centro dell'azione in tutte le sue articolazioni. Pluralismo nell'assetto dell'ordinamento istituzionale, pluralismo nell'assetto della società civile, nel cui ambito si affermano formazioni autonome di diverse nature, tra queste la rappresentanza sindacale, tanto per accettarne una, delle categorie sociali, sempre però nel rispetto dei principi e dei diritti democratici, in cui si deve manifestare questo esercizio di diritti inviolabili, riterei, del cittadino, che dobbiamo salvaguardare come principio. Nello stesso tempo, questo elemento precede anche la nostra azione politica, che richiede condizioni di dialogo, di approfondimento, sul territorio, ovviamente, prevedendo interventi mirati, realizzando progetti di socialità nei castelli, di ravvivare le occasioni di incontro fra i cittadini, monitorare attentamente i fenomeni legati anche alle varie dipendenze, e sviluppando adeguati programmi di prevenzione e contenimento, che noi parliamo di educatività. Questo congresso, dunque, rappresenta per noi e per il nostro partito l'occasione vera per un rilancio definitivo del nostro agire politico, con questa visione richiamata molto bene appunto nel titolo, in maniera, però, unitaria e condivisa. Quest'ultimo aspetto, credo, implichi anche una doverosa analisi politica, partendo proprio dai rapporti di maggioranza, quale punto fondamentale, a mio avviso, da cui dobbiamo prescindere, proprio in virtù del fatto che la democrazia cristiana rappresenta nel Paese il 33,34% del corpo elettorale. E questo significa che gode di una grande responsabilità politica e per lo più aver raggiunto anche un'intesa per la formazione di un'ampia maggioranza fortemente rappresentativa, in grado di affrontare la sfida del rilancio economico, o almeno ce l'auguriamo, e sociale, attraverso queste politiche in grado di stimolare la crescita, credo sia l'aspetto, diciamo, basilarde a cui dobbiamo prescindere e da cui intendiamo, ovviamente, porre in essere tutte quelle riforme. Con la sottoscrizione, quindi, da parte delle forze politiche, Movimento Civico-Rete, Domani Motus Liberi, noi per la Repubblica, abbiamo concretizzato una maggioranza che forse per qualcuno potrebbe essere del tutto eterogenea, da un punto di vista di visione politica, sicuramente, ma credo che il periodo trascorso l'opposizione nella passata legislatura abbia tracciato una linearità di vedute, fatto di interpretazione, di denunce, di misfatti, di un incessante lavoro e di strategie politiche comuni, intrapresi che hanno evidenziato quali erano gli obiettivi effettivi da conseguire, in primis quello di delegitimare un governo, ovviamente, su elementi tangibili, questo si fa riferimento chiaramente alla passata legislatura, in cui mi sento, in questo caso, proprio di rimarcare il lavoro fatto, soprattutto dal gruppo consigliare, e lo voglio ricordare, eravamo in dieci, privato di un peso politico enorme, della fiducia del nostro corpo elettorale, e non solo, e con pochissime prospettive di rinascita, rilegati all'opposizione inesorabilmente, e quindi, a mio avviso, lo volevo ricordare perché chi era presente, io sono uno di quelli, mi ricordo che abbiamo subito per un buon periodo questa situazione, e però, con il partito che ci ha supportato nella nostra azione politica, credo che siamo riusciti, con azioni mirate a delegitimare, appunto, il governo di allora, fino ad arrivare, appunto, a quel benedetto 8 dicembre, in cui abbiamo celebrato questa elezione politica. L'ho voluto ricordare, non perché vogliamo ottenere una riconoscenza, ma perché il clima di sfiducia che si respirava nella classe politica di allora, quindi noi facciamo parte di questo, eravamo privato, tra virgolette, dei nostri leader, per svariati motivi, eravamo rinnovati, per certi versi, anche nelle modalità di interpretare la politica in quella posizione di opposizione. Eravamo quasi al dunaresa, se possiamo dirla in maniera un po', forse un po' spinta, e tutto questo era percepito non solo dall'esterno, ma anche all'interno del partito, e quindi credo che tutto quello che è stato fatto abbia dato, finalmente, nel proseguo del nostro cammino, una sorta di legittimazione a spingersi oltre per cercare di recuperare tutto ciò che avevamo perso. Ecco perché oggi celebrare questo congresso, per me, io credo sia per tutti, sia un congresso per noi della rinascita politica, per certi versi, perché è di questo che si tratta. Lo voglio dire senza ditare nessuna responsabilità, né tantomeno continuare ad esaltare ciò che era stato fatto, ma mettere in evidenza da dove siamo partiti, assolutamente sì, lo dobbiamo ricordare. Certamente non sono mancate le difficoltà, lo dobbiamo dire, per coesistere e condividere certe azioni politiche, anche in minoranza, con il movimento politico di rete, per esempio, in cui erano evidenti le modalità dell'approccio nelle decisioni da intraprendere non consone al nostro modo di fare la politica, ma con il passare del tempo e i risultati che si ottenevano abbiamo tessuto sicuramente un ottimo rapporto di collaborazione reciproco che, devo dire, ha reso la nostra attività ancora più concreta e redditizia su molti fronti. Oggi qui, lo diciamo, lo possiamo dire, siamo in un'assise nostra e evidenziare, o meglio, rimarcare con obiettività e coerenza, lo devo dire, perché io sono uno di quelli che non era molto d'accordo nel proseguire nel rapporto con rete, dicevo, il livello di rispetto e fiducia con questa forza politica che ha dimostrato affidabilità, perlomeno finora, concretessa decisionale soprattutto, da cui, a mio avviso, non possiamo esimerci di non menzionarlo. E credetemi, dicevo, sono uno di quelli che non era assolutamente in linea su questo. Nel percorso, appunto, dell'opposizione, devo ammettere che sulla base di fatti veramente concreti, di politica attiva e di azioni comuni condivise anche con difficoltà, subendo addirittura anche denunce penali da parte di un noto imprenditore, abbiamo tracciato delle buone linee politiche di intese che mi pare, in questo momento, anche se siamo solo all'inizio di una legislatura, stiano dando risultati sicuramente tangibili in considerazione proprio del fatto che sulla visione paese e sui temi che stiamo affrontando, prevalga innanzitutto l'interesse comune e il bene dell'intera collettività. Concetti per noi, lo ribadiamo sempre, basilare nel nostro DNA nel modo di fare politica della democrazia cristiana. Aggiungo anche che questa alleanza è basata proprio su una visione globale, unitaria, per il buonsenso, ovvero nella ragionevolezza e nella coerenza soprattutto. E ammetto che nell'ottica di questi aspetti non vi erano altre alternative da tenere in considerazione ora che abbiamo formato appunto questo governo, ce ne rendiamo conto, per formare una decisione e di prospettive, di scelte politiche da intraprendere. Lo stesso rapporto con noi per la Repubblica, per esempio, nonostante le tante traversie politiche che si sono susseguite all'interno di questa forza. Il rapporto di fiducia che abbiamo installato non aveva assolutamente bisogno di essere riconfermato in maniera così evidente. E devo dire che il suo consolidamento si è rafforzato proprio durante il periodo all'opposizione, con un lavoro di condivisione di rapporti continui e su decisioni concertate, con una visione comune assolutamente in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissi. Non dobbiamo dimenticare il nuovo rapporto politico, lo dobbiamo dire, anche con il nuovo partito, domani motus liberi, in termini di alleanze che deve essere ricordato, lo devo dire, perché il contributo fornito in questi primi anni di lavoro in maggioranza alla guida del Paese, con una loro visione, qualcuno l'ha detto, di politica che caratterizza in buona parte i nostri ideali, i nostri valori, auspichiamo e ce l'auguriamo che continui su questa strada una condivisione di prospettiva su temi che dovremo affrontare presto in termini anche di maggioranza, quindi di gruppo, non solamente di aspetto di governo. Il quadro politico quindi attuale non offre, dicevo, altre alternative, soprattutto se guardiamo verso i partiti di opposizione che in un ruolo legittimo, per carità, esercitano un'azione politica denigratoria, priva di contenuti, fortemente condizionata da situazioni discordanti al loro interno e di questa loro alleanza pseudo-riformista che mi devono spiegare cosa significa e che si contrapone a politiche di facciate anche, quindi esternazioni di vario genere sui giornali, dichiarazioni che non hanno alcun contenuto vero, a salvaguarda, ricordatelo bene, delle loro azioni con la convinzione di aver agito in passato nell'interesse supremo del Paese e su questo ci sarebbe da aprire veramente un dibattito che ormai credo che non interessa più nessuno. Esaminando quindi questo andamento di gestione in quest'area di minoranza cominciano a delinearsi l'ho ricordato molto bene il segretario ieri sera certi mal di pancia e credo sia eloquente evidenziare come nell'area di libera appunto qualcuno abbia già preso le distanze da questa politica denigratore fuoriante. mi riferisco a Miss del collega consigliere Rossano Fabri che lascia intendere sicuramente differenze di veduti in un'ottica prospettica e di non totale condivisione sulle politiche attuate in questa prima fase di legislatura da parte dell'asse SSD Civico Repubblica Futura. Infatti il progetto iniziale di libera in tempi non sospetti di alleanza quindi mi riferisco al momento in cui dovevamo formare il governo a mio avviso sembrava sembrava lo ricordava forse un po' la Guidi ieri sera ma tra le righe sembrava inizialmente avere una chiara e netta presa di distanza dai fautori del disastro del disastroso chiamiamolo così avvio della prima fase della scorsa legislatura ovvero della presa di distanza dagli scempi in ambito bancario e finanziario e nel settore soprattutto della giustizia cercando in qualche modo un pseudo distingo se così lo possiamo interpretare ma forse poi non convinti di quell'arriontamento oggi ritrovandosi nel ruolo di minoranza a cui è stata rilegata la lista di libera l'impressione che si è palesata è stata quella di una riedizione della coppia fallimentare del governo di adesso punto sm la posizione di Miss quindi credo e spero da una parte di poterla capire fino in fondo perché anche di sera Fabri non mi pare che abbia lanciato qualche proclamo diciamo così di discostamento da questa minoranza in sintonia con libera e a mio avviso in maniera molto più accentuata Repubblica Futura continua ad esercitare il suo ruolo da cui non ha potuto esimersi ovvero calcare il suo cavallo di battaglia politica che è quello della giustizia esercitando attraverso azioni denigratorie lo dicevo prima fuorvianti palesi ed evidente forme di vendette trasversali lo voglio ricordare utilizzando ogni strumento possibile a sostegno della loro tesi delle loro tesi complotistiche secondo il loro modo di vedere ed infine lo voglio ricordare il clamoroso utilizzo della mozione di sfiducia nei confronti del nostro segretario Massimo Andreu Ugolini dicevo a loro giudizio la maggioranza anzi la giustizia per loro è una fonte inesauribile pare pare di misfatti di questo governo e soprattutto di questa maggioranza tesa proprio a indebolire il sistema giudiziario secondo loro a scapito dei vari processi che devono essere ancora celebrati questo è quello che loro pensano noi crediamo invece che questa forza politica in futuro e me lo auguro io per primo che non rappresenti in nessuna maniera una prospettiva politica sulla quale fare delle valutazioni o ricercare convergenze su temi a noi fondamentali per il rianzo del paese perché in questo caso io mi dissocio immediatamente credo che ormai non abbiamo più nulla lo voglio dire qua dentro siamo in una sese congressuale più nulla da porre in condivisione con Repubblica Futura qualcuno mi dirà mai dire mai in politica no io dico no io non sono d'accordo e su questo penso che la maggior parte di noi sia d'accordo in questo scenario politico quindi un ruolo quello del nostro partito all'insegno della responsabilità alla guida di una coalizione così variegata politicamente però coesa e compatta nelle scelte e negli obiettivi credo che sia non potrà mai anzi non si potrà mai discostare da questa visione di insieme ovvero delle priorità che dobbiamo mettere in atto le stiamo valutando tutte e credo che i nostri segretari di Stato in parte all'interno del gruppo consigliare anche noi lavoriamo ma anche i segretari di Stato abbiano in qualche modo già evidenziato queste linee quindi questo congresso oggi lo celebriamo in un clima diverso chiaramente perché è la nostra condizione politica che è cambiata infatti dobbiamo dare atto dopo un periodo dell'opposizione il partito e i suoi iscritti e ovviamente il nostro segretario uscente Giancarlo Venturini il gruppo consigliare la direzione sono rimasti tutti indistintamente compatti a supporto di una causa comune di rilancio della nostra azione quindi nulla ora deve essere quindi lasciato il caso o alla prassi di una valutazione di riconfermo o meno del nostro segretario solamente in questa assise dobbiamo quindi dimostrare di agirlo diceva qualcuno prima di me nella trasparenza garantendo attraverso una costante informativa gli atti prodotti tesi a migliorare la conoscibilità dei provvedimenti stessi dei processi di spesa la cooperazione sulle tematiche di maggiore importanza il contenuto le strategie collegiali però a tal proposito voglio fare un piccolo richiamo mi sento di condividere una parte dell'intervento con la collega Alice che non vedi in aula per cercare di capire qual è il fatto che non vi è una sorta di rispetto reciproco all'interno tra il gruppo consigliare di maggioranza e dell'esecutivo lo dico perché molto spesso assorbiamo delibere di congresso che ci stanno per carità e provvedimenti che potrebbero essere se vogliamo anche condivise a volte e purtroppo ci troviamo molto spesso a dover approvare dei decreti in consiglio che non abbiamo neanche visto neanche letti neanche approfonditi e questa è una pecca sulla quale io mi sento ancora di richiamare i nostri membri di governo di rendersi partecipi di queste cose perché non è possibile che un gruppo consigliare di maggioranza ovvero noi i gruppi di maggioranza e quindi i numeri abbiamo i numeri per andare a condividere dei provvedimenti che non abbiamo neanche visto io l'ho fatto presente più volte il presidente può essere testimone all'interno del gruppo consigliare all'interno della direzione del partito e su questo la mia critica credetemi ci sarà sempre sarò uno di quelli che alzerà sempre un po' la voce mi dispiace ma da un punto di vista politico io che faccio solo politica mi interessa anche perché lo diceva bene Alice all'interno del consiglio grande generale a sostenere quei provvedimenti siamo noi oltre che i membri di governo che le vanno ad esplicitare quindi questo richiama anche una stabilità del paese in quell'ottica anche una prospettiva di coesione ovvero ristabilire un equilibrio tra i diversi poteri dello Stato e qui voglio arrivare ad un ambito in cui dobbiamo riconoscere che il potere legislativo ovvero il potere politico il potere esecutivo è il governo e quello giudiziario che è un'altra cosa devono operare nel pieno delle loro prerogative senza ingerenza qualcuno l'ha ricordato e senza prevaricazione alcuna a me questo va bene va benissimo purché le finalità non siano quelli di dover fare degli atti che vanno contro a una logica a delle leggi o contro addirittura dei principi di separazione appunto di questi poteri non possiamo dire di aver agito tutti quanti noi sempre nell'ottica di aver agito bene io non voglio mettere in dubbio per carità però però ci sono dei però e noi in questo ambito per esempio sulla giustizia che mi accingo così a dire due cose credo che lo abbiamo notato in maniera molto aperta volevo dire questo è stato più volte menzionato per esempio sulla riforma appunto istituzionale che dovevano garantire appunto questi aspetti all'interno del Consiglio Grande Generale abbiamo approvato una legge la legge qualificata del primo febbraio 2020 con la nomina del dirigente abbiamo fatto altre cose e tutto questo ha portato ad una ad uno scontro veramente senza limiti all'interno del Consiglio Grande Generale abbiamo parlato di giustizia per tre mesi credo che ormai siamo arrivati alla fine non voglio soffermarmi sulle tematiche perché credo che i segretari i segretari che interverranno credo che ne avranno sicuramente in maniera più esplicita la spiegazione più tecnica per i territori in forma presidenziale politica estera eccetera eccetera io ho voluto fare un intervento politico di richiamo a queste modalità di lavorare quindi concludo e non la voglio fare più lunga forse ho esagerato nel tempo però permettetemi queste assise sono fatte per parlare di politica non per parlare di aria fritta quindi in conclusione di questo mio intervento non mi aspetto dunque semplicemente una mera celebrazione di una riconferma come dicevo prima o meno del nostro segretario anzi me lo auguro però te lo ripeto perché non è detto che insomma le cose possono essere così liscie ma mi aspetto un rilancio della nostra azione politica partendo dal basso generando passione lo diceva bene teodoro una volta entusiasmo stimolare i nostri iscritti a partecipare alla nostra attività di partito dare slancio di incrementare il lavoro delle nostre sezioni soprattutto ed è il nostro cosiddetto parlamentino dal consiglio centrale ovvero da cui ci si aspetti interventi di stimoli per sostenere la nostra azione politica non solo un'assemblea di partecipanti come purtroppo a volte a volte accade quindi io mi auguro che questo appello venga accolto dalla segreteria del partito la segreta riuscente se mai sarà riconfermato me lo auguro grazie è un buon auspicio e da parte mia hai la mia piena fiducia grazie è la terza volta che dici se sei riconfermato penso che non abbia altro voto grazie Oscar non c'è dubbio che col tuo intervento hai toccato tantissime questioni hai anche ti sei cavato anche qualche sussolino dalla scarpa e l'unico che è rimasto preoccupato è il segretario uscente perché gli hai detto per tre volte o meno e quindi vediamo un po' come va a finire grazie chiediamo adesso di intervenire a William Casali della sezione di Murata ecco vi prego di no grazie a tutti